Il baratro Oh non so, alcune idee di gente hanno un buon tempo Oh, mi piace il modo che l'acqua dimentica i sensi Frizz la mia, ma non posso solo guidare a te so far Submerge yourself Submerge Good Go deeper Disappear beneath the surface Don't come up here Stay there Feel your lungs tighten Lose yourself with me And when you can't take it anymore Take it more And Yes Good girl Surrender to me And I will guide you to acceptance Ok, sai che per un attimo Ho pensato che ci saremmo dovuti Anche noi immergere Posso dirlo? Come trama Ad ora mi sta piacendo Mi sta piacendo un sacco Poi ovvio Sono molto Come posso dirlo Al di fuori da Dalla mia Secondo me Troveremo modo di togliere tutti sti cervelli Da queste parti Perché a me una Un'idea viene Di usare il fuoco Ma sono abbastanza sicuro che non serva Almeno Almeno credo Cioè io vedo una roba del genere La prima idea che mi viene è di usare il fuoco Per farla bruciare Però lo vedo che non funziona Però c'è l'immagine di un uomo elettrificato Aspetta Perché c'è l'immagine di un uomo elettrificato E il cervello arriva da lì a lì E quello è targettabile Ho sicuramente ragione Ma non so il modo per passare Bello pesante Aspetta Addio la gambina È davvero un baratro questo Questo fucile è sempre uno dei migliori Ah che bello Una cosa alla volta però Bella sta musica Proseguiamo Ehi la Ovunque ti giri Si cade sempre più in basso Porca troia Ma pure la piscina Ok Te Beccati questo Cretina Si sta bene Scema Era ovvio che sarebbe successo qualcosa lì Però Faranno di tutto Per cercare di spingermi qui E io farò di tutto Per mantenere le distanze Dove mi giro mi giro Succede qualcosa Ecco qui Bel colpo vero? Potete scendere da dove volete Io so sempre il colpo carico I disegni sui muri sono veramente fantastici Sono veramente terribili La musica nonostante continua a ripetersi solo questo pezzo Fa veramente Oh cazzo Chi l'aveva visto questo? Beh Mi spiace Tra l'altro ho sbagliato bomba Perché ho messo quella d'acqua Pensavo di aver messo quella appiccicosa Ma quasi quasi metto questa Come cazzo fai a entrare qua dentro poi? Quello sicuramente si sveglia Ecco fatto È una carta Indole calcistica Oh bella con l'immagine nuova Fagli vedere che non salti mai al giorno Fagli vedere che non salti mai al giorno delle gambe I calci prosciugano più stabilità agli zombie E riducono notevolmente la resistenza degli zombie Contro gli... Oh È una variante Di questa qui Il calcio volante indebolisce gli zombie Però Se lo faccio in volo Funziona uguale? È da provare Ma quanto cazzo è grosso Sto... Sto posto Ricordiamo che questa è una casa su una collina eh Sicuramente si intana sempre più in profondità Verso l'interno chiaramente Però cazzo è enorme Qua tutti sti tubi È messi a cazzo di cane Ah Abbiamo accurato che il calcio ora indebolisce Contro i vari status E gli diminuisce la stabilità Proviamolo in volo Perché se me lo fa anche in volo Boia Secondo me lo fa anche in volo Non sono sicuro se ha funzionato Ma secondo me lo fa Però siamo arrivati in teoria Bello Ok Ah Eh vabbè Ma dai Ah E sono i disegni quelli Ah E sono i disegni quelli Pervergati Cult Colt? Vi chiamati un colt? Beh Ho detto Pervergati Guarda questa cosa Pfff Questa è haute couture Un'educazione che i nostri corpo non ci definiscono veronique you're a pervy cultist own it no 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 we made house to prepare the chosen for ascension cultist to preserve humanity cultist before the zombies devour the world setta you predict the zompocalypse constantine showed us this future what no constantine sarà sicuramente uno zombie gigante boss alla fine constantine timing was a little off the future is all to tie down it squirms but it's ok you will save constantine and the ascend so come no I'm taking you back to Vincent perfect I will rest now I'm in safe hands just give me a slap when we arrive ma dai no ti prego devo portarmela no dai cassaforte di veronique allora aspetta un attimo veronica niente che faccio questo cervello funziona tranne sparargli però non fa effetto ah prevedo già una dura risalita io con sta testa in mano ovvio e chi se lo sarebbe mai aspettato vero ci sarà da divertirsi con sta testa e non farla rotolare di sotto eh quando mai orga troia meno male che non si fa danno ui cretina del cazzo abbiamo capito che non dobbiamo lanciarla contro gli zombie ora perché questi cercano di magnarsela e niente cerchiamo di giocarcela da stanzia cerchiamo di farcela dalla distanza il problema è che qualunque televisore ora è un possibile spawn point per i nemici e come è ovvio pensare manteniamo le distanze ecco risolto testolina ecco qua grazie muoviti 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 non pensiamo a cosa abbiamo dietro occupiamoci solo dei nemici ecco qua ok andata vero nick andiamo saltiamo il kebab ma io me lo mangerei uno ok siamo fuori sicuro adesso appare qualcosa di grande grosso e cattivo la porta è chiusa ma guarda un po' ok allora non sono sicuro che volante il calcio faccia effetto vai 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 perché ti giuro che sta testa la lancio contro il portone e combatto contro chiunque appare quando mai aspetta dai vieni qui no secondo me volante non fa lo stesso effetto sai no 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 conta solo come calcio normale peccato poteva essere una bella combinazione averli entrambi alla fine questo lo uso solo come tappabuchi perché così mi tolgo tutti gli status non c'è nessuno e io me ne vado da qui ah ok dovevo chiuderla scusami ah beh certo se no entrano gli zombie da qui a qua dentro stupido io che neanche ci penso vero eh vabbè vero nick ti tiro uno schiaffo vero nick have you lost weight ah vabbè tieni ti giuro voglio capire cosa sono quei filamenti ooo armi Ah Ok Ok Vabbè Contenti voi I cervelli oscuri emettono Dei tentacoli che bloccano alcune aree Distruggili con la balestra Guarda lo sapevo Lo sapevo che dovevo usare la modalità furia Lo sapevo e ho detto Non facciamolo Ovvio No sai cosa ci vado quando avremo la balestra Che così facciamo tutte e due le cose No 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 No